comunque a casa vostra controllate anche nella buca delle lettere siamo anche lì insomma siamo dappertutto dicevo oggi allora con l'ospite che è qua con noi l'approfondimento perché Como porta veramente un po' di di sua arte particolare a Biella che è stata Città Creativa Unesco Como è Città Creativa Unesco e allora oggi qua con noi Agnes il cognome vai Agnes Durnschabel quasi giusto che è qua con noi artista atelier il suo atelier a Como in via Borsieri esatto quindi vicino a noi esatto allora Agnes intanto buongiorno grazie di essere qua con noi avvicinati leggermente al microfono così ti sentiamo meglio grazie si chiama fatti ad arte questa manifestazione che c'è a Biella nei prossimi giorni giusto inizierà venerdì e termina domenica domenica esatto allora ecco che cosa fai e che come mai Como va a Biella Como tu e altri rappresentanti museo della seta per esempio il setificio ecco altre due realtà importanti di Como andati a portare un pezzettino del nostro territorio prima cosa quello che faccio io io sono un artista della ceramica appunto con laboratorio a qui vicino via Borsieri formatrice e la seconda volta che mi hanno chiesto di partecipare a fatti ad arte una manifestazione nata per la valorizzazione del artigianato artistico esatto brava di tutti i tipi della ceramica del legno del tessere eccetera valorizzazione e promozione e si tiene in due dimore storiche di Biella cioè del quartiere storico di Piazzo in quest'anno nella sesta edizione e Como è stato coinvolto perché dall'anno scorso è città unesco città creativa dell'unesco e quindi hanno pensato bene di invitare da Como diverse realtà ecco va detto Agnes che noi qua a Como sì questa cosa della città creativa l'abbiamo vissuta ma non ho visto tutto questo interesse passatemi il termine questa attrattività in realtà il sindaco Landriscina il sindaco uscente quando l'anno scorso l'ha presentato ricordo che ne parlava in maniera decisamente importante entusiasta Biella mi dicevi che ha invece forse avuto un come dire un tumulto popolare importante per questa cosa vero? sì no loro hanno notato proprio un accento particolare esatto bravo esatto hanno invitato appunto il settificio che tu hai già menzionato che porterà una mostra ah ecco bravo si organizza dei studenti una mostra del sui accessori di moda esatto sviluppato si crea trame lariane loro loro al settificio in effetti studiano anche proprio per realizzare prodotti di moda e legati al mondo tessile quindi effettivamente questo è molto importante a proposito di tessile poi ci sarà anche il museo della seta altra bella realtà di Como vero Agnes? sì 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 ci sarà il museo della seta con una mostra sulla storia della cravatta si chiama la spina dorsale di un uomo ok e quindi ci sono delle sete anche antiche penso di diverso tipo e poi c'è anche una cooperativa la contrada degli artigiani una cooperativa appunto che fa parte della galassia di cometa della fondazione cometa sì sì che loro appunto esatto ma visto che sono coinvolti ragazzi una curiosità ma ma tu vedi che loro hanno voglia di di intraprendere questo percorso o lo fanno perché devono studiare basta perché sono obbligati ma c'è c'è del talento tra tra di loro credo che abbiano voglia quello che io conosco diciamo più da vicino è la fondazione cometa sì che ho lavorato con i loro ragazzi sì e poi anche andando nelle loro poste si vede che il luogo secondo me che nella realizzazione di gli oggetti di artigianato di artigianato e belli loro penso che trovano hanno della creatività quindi niente queste sono corso modo le realtà di como che saranno presenti a biella oltre a tantissimi altri ecco quindi il como va a biella esporta un pezzettino della sua arte della sua cultura della sua del suo artigianato anche ecco fare ceramica e realizzare ceramiche nel 2022 è difficile facile e attuale è complicato agnes sentiamo volevo capire questo allora dipende io ho una grande passione è romantico anche voglio dire infatti secondo me per me c'entra anche una gran parte di romanticismo credo di sì credo che ci sia di qualche film no 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 volevo dire perché credo sia una un'abilità manuale importante anche saperla fare realizzarla però ecco è una cosa che insomma purtroppo figlia dei tempi ne parlava prima a volte è giusto se concordo però se c'è la passione viva dio anzi mantienila e conserva la lungo agnes io te lo auguro no tu ti riferivi forse se c'è il mercato ancora se si riesce a vendere la ceramica dipende appunto cosa dipende cosa non è semplice e se voi avete visto la faccione delle volette sarà sempre più difficile certo brava è vero è vero momento del noi io per esempio non cuocio con elettricità non con il gas a parte che anche gas sarebbe costoso ah certo quindi consumo è questo e costi sono questi però insomma c'è la grande passione e poi credo che tutti questi artigiani che espongono a quella manifestazione hanno la loro passione e credo che gli attori di fatti ad arte intendono proprio anche dare valore a questo cioè di promuovere questo modo di intendere il lavoro fatti ad arte quindi lo ricordiamo agnes che è qua con noi ci ha presentato anche il suo atelier che a como in via borsieri e che quindi assieme ad altre realtà del nostro territorio venerdì sarà a biella proprio in queste due dimore storiche palazzo ferrero e palazzo la marmora a biella appunto per preso prego devo dire forse anche orari possono interessare certo certo come no allora gli orari sono venerdì che sapere 7 di ottobre dal dittario 18 alle 21 ok sabato 8 dalle 10 alle 21 e domenica 9 ultimo giorno dalle 10 alle 20 perfetto allora fatti ad arte a biella però è non a como perché c'è questo pezzettino di como importante che si trasferisce lì a biella brava agnes e soprattutto complimenti anche per questa tua costanza ecco diciamo così nel tenere alta questa bella tradizione artigiana è complicato poi realizzare le ceramiche ci vuole fantasia non è semplice ci vuole creatività ci vuole creatività ma anche sapere tecnico è bravo quindi devi anche essere chimica si ha anche anche in effetti è un mestiere dove entrano anche questi tutti caratteristiche caratteristiche degli materiali non è come parlare davanti a un microfono che è più facile sicuramente più per questo ci vuole insomma vabbè 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 volevo posso dire un'ultima cosa certo volevo menzionare la bottega vestita di grottaglie che quest'anno è stato pure invitata sempre a a biella che sono dei artisti della ceramica veramente fenomenali e bravissimi e loro hanno anche loro una loro mostra nei commenti troverete il link per appunto visionare la pagina facebook fatti ad arte perfetto agnes grazie di essere venuta qua ciao come un cordiale saluto grazie